Ben trovati da Gerardo Paterna per questa nuova intervista su ReTV. Oggi ospitiamo un personaggio davvero inedito, un grande, anche fisicamente quasi più grande di me, della mediazione del credito. Abbiamo in studio infatti Samuele Lupidi, CEO di Auxilia Finance. Ciao Samuele e ben trovato. Ciao Gerardo, grazie. Stai gli scherzi, è vero? Sì, assolutamente. Perfetto, perfetto. Assolutamente sì. Benissimo, ottimo. Allora, grande esperto di mutui, ci dai un po', ci fai un overview su come stanno andando le cose, le banche erogano, i mutui si fanno? Sì, le banche erogano e i mutui si fanno. Circa 280 mila mutui l'anno, 290 mila mutui l'anno, numeri importanti, compinciano ad essere numeri importanti. È chiaro che in questo ultimo periodo, gli ultimi mesi, è cambiata la ripartizione delle tipologie di mutuo, perché gran parte dei mutui negli anni passati, nell'anno passato fino alla fine del 2016 è stato dato ai mutui surroga, alle sostituzioni, mentre invece oggi sta crescendo di nuovo il comparto del mutuo acquisto. La nostra società di medizione creditizia per l'80% intermedia a mutui acquisto, essendo di proprietà di FIAIP, un altro 20% è tra sostituzioni surroga, consolidamenti e altre finalità. Direi che il mercato è un mercato in ripresa, il numero delle compravendite sta salendo e quindi l'incidenza che abbiamo nel mercato del credito sta ulteriormente salendo. Noi siamo in quel comparto, nel comparto del mutuo acquisto in modo importante fin dalla nostra Costituzione e quindi abbiamo il polso di risuazione reale di quello che sta accadendo. Tieni conto che noi intermediamo circa 7 mila mutui l'anno, il che vuol dire almeno vedere 10 mila, 12 mila clienti moltiplicati per due, per tre, quindi un numero importante di persone alle quali facciamo consulenza. A proposito di consulenza, è uscito pochi giorni fa un articolo sul Noto Quotidiano in relazione al fatto che c'è un altissimo percentuale di pratiche di finanziamento che a un certo momento si bloccano o si allungano i tempi per via della mancanza di documentazione. Io dico sempre, ma si fossero rivolti al consulente del credito, quindi volevo che fatti spendere qualche parola un po' sul valore della consulenza. Quindi fai finta di avere di fronte un cliente che vuole rivolgersi alla banca per l'acquisto della prima casa e quindi cerca un mutuo. Raccontaci un po' quali sono le ragioni per le quali dovrebbe rivolgersi ad un consulente del credito. Oggi un cliente che ha magari in animo di stipulare un contratto preliminare di compravendita o ha già stipulato a due strade. Uno va direttamente in banca, presso la sua banca e la banca in quel caso che cosa gli propone? Gli propone il prodotto che ha, che potrebbe essere il migliore in assoluto, ma potrebbe essere anche il peggiore in assoluto. Oppure da solo prende e fa il giro di una, due, tre, dieci banche. Ritengo non avendo le competenze specifiche, gran parte dei clienti non ha competenze specifiche sul credito. Oppure l'altra strada è chiedere l'aiuto di un consulente del credito. Dico consulente del credito e non agente in attività finanziaria e questo bisogna capirlo, perché il consulente del credito essendo un broker e essendo deputato, anzi direi che la legge gli dice che deve fare consulenza prima di proporre un contratto di credito, è la persona deputata a consigliare il cliente al meglio. Quindi rivolgendosi a un consulente del credito ha a disposizione un panel di banche e di prodotti che sicuramente, quindi con una sola visita, con un solo interlocutore, gli si può prospettare il mutuo tailor made fatto su misura per se stesso e può evitare tutte quelle lungaggini anche di tipo burocratico che invece si troverebbe ad affrontare se da solo si rivolge ad una banca piuttosto che andando da solo a fare il giro delle sette chiese o delle sette banche non avendo, ripeto, le competenze adatte. Sì, poi essendo interesse del consulente del credito che la pratica vada a buon fine, si imposta correttamente sin dal primo giorno, quindi non ci saranno problemi di mancanza del fogliettino di carta che poi allunga magari i tempi di istruttoria, per esempio, cosa che ahimè capita. Questo è importante perché noi in effetti riusciamo in tempi brevissimi, da quando abbiamo la documentazione reddituale in quattro giorni e riusciamo a dare una delibera, dopodiché potrebbe la pratica bloccarsi se non ci sono i giusti documenti dell'immobile, catastali di agibilità e quindi di conformità e quindi se l'immobile non è stato controllato bene e magari si è affidato ad un agente immobiliare che non ha fatto bene il proprio lavoro, allora lì sorgono i problemi perché il tempo può essere indefinito, fino a quando non si sistema tutta la parte burocratica dell'immobile non si può andare avanti. Invece l'attività congiunta di un bravo agente immobiliare e l'attività di un bravo consulente del credito fanno sì che i tempi si accorcino con soddisfazione da parte acquirente e della parte venditrice. E dell'agente immobiliare? E dell'agente immobiliare, ovviamente. Allora, terza domanda che vorrei così spaccare in due, oggi quanti consulenti del credito ha Auxilia sul territorio e poi so che state molto investendo in tecnologia con un progetto interessante, vorrei che ce ne parlassi. Sì, noi abbiamo 320 collaboratori, 320 consulenti del credito. Sì, siete nella top 5 probabilmente delle reti. Sì, tieni conto che da quando abbiamo visto la nascita di questa azienda, se si va a guardare in OAM, sono più quelli che sono usciti barra, sono stati allontanati dalla società per vari motivi rispetto a quelli che oggi ne abbiamo, perché riteniamo che il numero è importante se abbinato alla qualità, proprio per il motivo che dicevamo, oppure possiamo far dire dentro tutti che la qualità è quella che si abbassa assolutamente. Noi stiamo investendo in tecnologia, innovazione che è importante, perché si fa innovazione anche nei servizi, se non si innova nei servizi vuol dire che andiamo verso un punto morto della consulenza. Quindi che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato che il cliente ha bisogno di essere visitato quando lui ha bisogno. e quindi la disponibilità anche online a fare la consulenza, quindi in real time viene chiamato il nostro consulente che da back office, essendo comunque abilitato e iscritto OAM, dà una prima consulenza e poi la consulenza può proseguire in un secondo momento a casa del cliente, presso l'agenzia immobiliare, presso i nostri uffici che abbiamo sparsi in tutta Italia, per la conclusione vera e propria del contratto. Ma se il cliente, l'agente immobiliare ha bisogno nell'immediatezza di una consulenza, clicca un pulsante sul proprio gestionale immobiliare, pulsante salva vita e in tempo reale a un nostro consulente che gli risponde, si interfaccia ed è capace di gestire le prime richieste da parte del cliente. Questa è una innovazione che presenteremo anche tra breve. Partiamo in effetti con questo nuovo sistema gestionale da gennaio e siamo disponibili a dare assistenza a tutti gli agenti immobiliari, a tutti i clienti che hanno bisogno davvero di una consulenza qualificata. Benissimo. Di fatto coprite l'Italia? Sì. Quindi l'agente immobiliare che volesse in qualche modo ottenere supporto dalla vostra rete, sito web auxiliafinance.it oppure una mail a info-auxiliafinance.it e quindi noi subito lo contattiamo. Per te indicare un referente. Assolutamente sì. Benissimo, benissimo. Tempo è scaduto ma la rifaremo, ci racconterai cose nuove nei prossimi mesi. Allora, ringraziamo quindi Samuele Lupidi, CEO di Auxilia Finance. Grazie a voi che continuate a seguirci. Un saluto a tutti da Gerardo Paterna. Alla prossima intervista.